incredibile ecco le ragazze di prima ciao ragazze ci fate l'ultimo saluto che venite venite tranquille tanto ora siamo più tranquille allora vi faccio vedere sì ma mi ricordo di voi si dimentica di voi soprattutto perché te ok vabbè meno male niente di inquadrato perché ok allora queste sono le persone collegate questa è la chat vai solo la domenica al papete un attimo devo salutare omiatol perché un ragazzo di come ti chiami pistolino 22 saluta quel porco di omiatol matrizio official sono live attenzione a pistolino che sta per fare la sub ragazzi attenzione allora stavamo dicendo piacenza piacenza te sei la più tranquilla si vede si fidanzata si vede te sei singola e te sei fidanzata no te l'ho detto prima che sei singola fidanzata ah se tu sono te sei quella che rimorgia no no vabbè vabbè tranquilla ci fai vedere di nuovo le mani che prima ci ha impressionato con le mani ragazzi come si fa adesso come ti fa perché dall'altra parte hai fatto vocale di scagnosi 8 chi vuole fare il lemon game allora io ti propongo con gli anelli più bello con gli anelli più belle vi giuro ragazze è qualcosa di incredibile queste manine curate in una maniera incredibile manina è wow complimenti lei è mia sorella ok un po più grande di te sì sì tu hai 18 anni sì sì ok allora visto che c'è la sorella qui io non vorrei fare anche se l'ho me tatuato fa vedere qua non lo facciamo vedere la certa che sennò si è eccita rivediamolo un attimo un secondo denis wow denis ragazzi non ve lo posso far vedere aveva fatto il tatuaggio se non mi bannano e allora visto che è single le posso proporre un attimo un messaggio per te vocale di babba sottolineatura o criminale papà ma che stai facendo avevi detto che mi andavi a prendere il gelato e sono tre ore che non torni smettila di flirtare con le ventenne ormai hai una certa età ti ho già difeso con la mamma quando ti sei montato la biello russa delle pulizie ma ora basta ma non sono sposato non è mio figlio tranquilli sono single sono single è come me ma non me ma non come ti chiede scusa twitch si patrizio official ma poi c'è registrato questa cosa e questa live rimane perché voglio vedere no voglio vedere quando prima si rimane salvato il pod si chiama video on demand pod sì però tu hai l'app di twitch ce l'avevo buonanotte come ti fai a rivedere ecco anche le altre ragazze eccole la si limone con il limone che c'è la sorella questa banca online ringrazia scagliusi 8 tu quanti anni hai oh guardami in secondo no ti vedo ti vedo quanti anni ho la trentina trentacinque trentadue bellissima trentadue è andernato sei cinquanta trucazze sì magari cincuanta trucazze e allora ragazze piccola non posso fare quanti baci arrivano per queste signore questa banca online ringrazia botti nero zero e quanti baci botti nero spingere nei chat che abbiamo delle ospiti facciamo botti nero botti nero il ragazzo che ha mandato il bacio eccolo 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 bomba sociale 11 questa banca online ringrazia scagliusi 8 grazie scagliusi grazie per la sab un attimo caos totale caos totale facciamo così così ti vedi un po' no è così no no così così guarda io ci tengo sempre all'inquadratura ecco limone questa banca online ringrazia scagliusi 8 allora la chat ti sta provocando perché io sono singolo e la chat sa che sono un po' pericchino e allora sono anche le ragazze magari che vogliono saltare no no ma io ho fermato te non ti preoccupare martina martina chi limone questa banca online ringrazia scagliusi 8 questa banca online ringrazia scagliusi 8 ragazzi scusate grazie per i mille beats un attimo patrizio ecco vedi che siamo live ecco la camera vediamo così facciamo così se devo vuoi quindi poi io per vedere lascia il pod e te vai nel mio canale e lo rivedi per un attimo devi fare l'abbonamento per vedere perché io a livello di marketing faccio vedere vai ma fammelo gratis ma che è? e quindi non posso rivedere la piatta oh grazie il ciambella grazie per i mille beats scusa puoi mandare un bacio al ciambella che ha donato mille beats che sono 10 euro ho mandato e li ha mandati a me limone oh quanti limone questa banca online ringrazia scagliusi 8 occhio si vede il pin della carta della scuola cioè si vede il pin della carta ma è della scuola ah ok è la mia scuola che è finita allora puoi dire il tuo nome in chat così ti regalano la sub così stasera puoi vedere Nicola limone questa banca online ringrazia scagliusi 8 allora calmi come ti chiami? ahia la sorella non mi dà la sicurezza ahia la sorella la sta guardando un posto limone con la Q piacenza questa banca online ringrazia scagliusi 8 grazie scagliusi oh grazie ciambella grazie per i mille beats eh scusami come ti chiami in chat Nicole devo dire il cognome no no come ti chiami limone ma ti ho scaricato adesso ma come già questa banca online ringrazia scagliusi 8 sto per scrivere con il suo account sto facendo la faccina da porco ok segui dai ok vediamo aspetta eccola Nicole quindi mi hanno dato dei soldi si ora vediamo se ti regalano una sub datemi qualche sub vediamo se arriva una sub per Nicole così puoi rivedere il VOD dai datemi qualche sub dai un'altra faccia da porco va bene l'ultima dai ecco Nicole ecco Nicole ecco Nicole vediamo se ti arriva una sub la sorella sta per chiamare il papà pensa con le mani rosse su capellon calmi chi è Capron? attenzione mi mandano le richieste eh vabbè perché tu hai Nicola ascolta i baci i baci? no pensano sempre male Nicola sposami certo nessuno che sorprende Nicola con la E non senza non agitate eh oh siamo all'I3 limone oh livello 2 si è bloccato si è bloccato si è età 18 Nicola la vuoi la lattina? poi ti spiego questa è la lattina allora vedete arrivano allora facciamo così con calma con calma vedi l'altra è il problema allora ragazze allora quanto tempo vi aspetta prima di arrivare due minuti ah avete comunque avete lo tempo quando è che partite? l'altra settimana wow quindi alla grande siamo arrivati ieri ieri dove siete state a Villa Papela? si com'è non sono mai andato no non ci piace perché no? ma perché non vi è piaciuto? il posto è molto bello però? però ma cosa è questa cosa che senti? queste piste sono piccole c'è troppa gente non si riesce a girare eh sì tipo come la Villa delle Rose ho capito poi ti tirano cioè si ti tirano ma e come non ti voglio leggere? ho rifresciato tutto mi piacezza non so e come lo guardo? ti hanno regalato la sub prova a scrivere ti hanno regalato la sub grazie Scagliusi ho rifresciato tutto ragazzi scusate ho rifresciato tutto scam regalata da Filo grazie Filo quindi stasera puoi vedere il video quindi guarda questo sono io sono io calma perché io non porto mai i capelli rasati ok eccola col simbolo del bacino guarda è il simbolo di chi ha l'abbonamento il primo mese perfetto ecco passaggio per te vocale di Scagliusi 8 la sub era in cambio di un limone no un attimo un attimo l'abbonamento sub sub subscription ok allora vi spiego come è fatto io parlo di sesso tecnologia viaggi un po' di gaming è normale che essendo single certe volte vado nei locali e mi capita di rimorchiare quindi ecco perché vedono l'unica single anche se c'è la sorella è un po' capito c'è quella situazione un po' ma quanti anni hai? 32 scusami ma perché non ti va bene un 30 si bevi ma perché si vanno sposare sorellina dai non è che dobbiamo diventare parete ma la sorellina non dice niente la sorella è pro la sorella è pro la sorella è pro se limona questa sbanchiamo ma io bacio bene quindi sbanchi anche 32 ne ha 56 ma che cioè guarda che culetto non hai 32 anni cioè ma guarda che culetto ha minuto quanti anni hai? ha 42 anni ha 55 64 ora sparano limonate tutte e tre sì vabbè tutte e tre calmi un messaggio per te vocale di scagnosi 8 50 euro per il limone no no ragazzi no no ragazzi quanti anni hai? non hai 32 calma fammi vedere il documento calma io non ti posso far vedere tutto se tu non mi fai vedere niente nel senso che hai capito la chat è vogliosa a quest'ora eh ma no la chat è vogliosa vuole il bacio pesante vicino il palo della luce assolutamente no vicino il palo della luce hai anni di tu non hai 33 ragazzi ditemi la verità quanti anni ha? la verità ne ho 42 e perché mi dici le cazzate allora? è perché mi piace limone cioè hai l'età di mio padre no Patrizio questa banca online ringrazia scagliusi 8 aia 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 28 anni aia ma sarai sempre indecisa fra i 28 e 42 vocale vocale di Serious Martin si signorina siamo con un iPhone 15 pro con powerbank 1080p 60fps on demand ma che è Netflix con treppiedi pro ho i che manini stasera pom 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 si ok così pom 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 treppiedi di marca tutto in piedi dritto però da quando sono entrata sono entrate più persone vocale di Scagnusi 8 Martina dai non fare così si vede sto limone ci sta godiamocelo c'è qualcuno di Piacenza perché si sta un po' a vergogna se c'è qualcuno di Piacenza nel caso del limone no nel caso del limone capite ma al massimo ci potiamo dare un bacio da mia amica proprio solo se donano mille bits non così gratis eh dai se donano mille bits mille bits ragazzi mille bits si danno un bacio fra di loro andavamo a scuola insieme sì certo sì ho cambiato 20 scuola limone con la sorella no vabbè limone con la sorella no o la sorella ragazze mi portate in hotel con voi no vocale di Scagnusi 8 Martina questa lei si autodistrugge alla fine non avere nessuna paura facciamo sto limone che accanto è il massimo ragazzi se non erano con i genitori andavamo a cena da loro però sta facendo tutto lui sta facendo tutto lui noi non abbiamo detto è normale oh peccato che ci sono i genitori se non andavo a cena con loro a casa loro le piadine cuciniamo stasera cucinavo io aspetta vocale di Scagnusi 8 Martina questa lei si autodistrugge alla fine non avere nessuna paura facciamo sto limone che accanto è il massimo ma chi è Martina? perché è Martina? ma perché non è Martina Valentina no scusami Nicola 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 mi fai vedere le manine di nuovo? ancora le manine incredibili manine incredibili proprio da fidanzarsi solo per le manine complimenti quindi Nicola no aspetta devo leggere vuoi promuoverti su Instagram che sono la sua prima cosa è stata fidanzata una volta Martina? no no calma che sennò 18 anni te lo dico a fare chat 18 anni e voglia una vita per limonare vocale di Crashot vabbè ma è un limone mica te lo devi sposare su via poi nemmeno lì dimostra gli anni che ha non ti è andata così male all'età di mio papà vocale di Best Proid 564 Patrizio te la sei giocata male perché mentire sull'età ha ragione Nicole vocale di Scagnosi 8 Nicole non è un caso se il goat viene considerato il migliore limone di tutte quelle che lo provano ti sono sincero sì ho limonato già uno al papete va bene allora qual è il problema bravo cioè anche la fidanzata mi premia oh ho limonato uno al papete prima a lei sarebbe la seconda della giornata sì questo qua è il mio come diciamo su Instagram ok e puoi salutare Thomas Turbato? sì ciao Thomas ok eccola no vabbè limone un saluto ce lo devi venire a fare un attimo questa banca online ringrazia Scagliusi 8 vieni qua signorina vieni qua vieni qua con le ragazze vieni qua con le ragazze vieni qua un secondo con le ragazze e anche lei è quella che ti è limonato? no non è lei non è lei no no non è lei no no eccola eccola ve la ricordate? dove stai andando a cena? no sto andando a casa nella mia macchinina vado a prendere una mia amica e usciamo ok stasera dove andrai? allo Zuc sapete che cosa è lo Zuc? no perché loro hanno che cosa? devo poi dire mille locali in giro per Milano Marittima tutti i locali qui in centro ah ok bene ragazzi vi aspettiamo allo Zuc ok veniamo a prendere un drink va bene? va bene ciao ciao bella allora stavo dicendo stavo dicendo stavo dicendo eccola qua meglio Nicole dice la chat oh ma no che basta io Zuc meglio Nicole meglio Nicole un attimo che Nicole ti inquadre come fattura un euro tramite Paypal Papa di Martina ha donato un euro ciao Marti come è andata il papete? vedo che sei in buona compagnia ma quando ti ricapita un 42enne così in forma la vita è una e bisogna godersela e con Patrizio non si rimane mai delusi allora si chiama Nicole non si chiama Martina lo puoi dire mi chiamo Nicole puoi scrivere un messaggio in chat così ti inquadrano perché sennò ti chiamano Nicole due minuti li faccio andate per la parte grazie ma non ci stanno divertendo no no non ci stanno divertendo vocale di Scagnusi 8 facciamo così Nicole facciamo un lemon game e tagliamo la testa al toro ancora ti spieghi il lemon game come si può è un gioco sexy cos'è la lattina? ho un condom in mano cos'è la lattina? la lattina è una cosa che non potrai mai scoprire ma l'hanno chiesto un colpo è stringere il braccio a Patrizio con le manine no è curiosa sulla lattina ma non le posso spiegare cos'è la lattina se no qua poi non mi lascia più ma mi lascia più chat qui non c'è qualcuno di vicino o no? si ci sono vocale di Serious Martin intanto dobbiamo dire che Patrizio ha delle doti importanti il suo aggeggio lo chiamano lattina bello pedale ma quindi vuol dire che tu vuoi un po' di gelato a casa mia? è la lattina è il patto 69 69 e si e si pom 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 io sono di Piacenza vocale di Scagnusi 8 e il cazzo di 22 cm di Patrizio non è che li dico li hanno visti è capitato ma non in live eh oh Nicola è capitato eh oh quando succede 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 io sono di Piacenza Gold c'è anche qualche ragazza di Piacenza vediamo se riconosce c'è anche di Piacenza eh qualche ragazza vediamo se c'è qualche ragazza vocale di Scagnusi 8 Lemon Game ora le propongo il Lemon Game sì allora guardami decidi te se accettare un minuto lo spiego avrò un condom in mano dovrai indovinare in che mano metto il condom se a destra o a sinistra se indovini hai vinto te lo metti in no 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 ah non lo usi il condom no bravissima non lo usa vocale di Serious Martin magari solo 30 centimetri le doti sono imporetti abbiamo fatto un trisam pesante con una incontrata sul lungomare eravamo entrambi in monpattino mentre andavamo lui glielo dava davanti io dietro pom 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 mi dissocio mi dissocio non faccio sesso sul monopattino comunque lei non usa il condom come anche io non lo uso ragazzi usatelo voi qua bisogna godere senza allora andiamo avanti Martin bello arrapato è fidanzato Martin ricordiamocelo bravo fidanzato di chi? fidanzato di chi? martin è fidanzato da due anni se non sbaglio ok se tu padre è inciato diciamo che mi segue vostro padre mi segue ha 42 anni quindi mi segue non so ok non mi segue ok mi commetti le mani uno sull'altro si fra un po' andiamo a mangiare è un faretto guarda perché la sera io siccome sono un travel blog ma io provo di bigliocchi eh visto come sei valorizzata con il faretto perché la sera io non valorizzare più vocale di scagnusi 8 la sorella non è proprio più facciamo così io vengo a limonare la bionda Patrizio limone Martina non così tu li pugni no vogliono limonare ha visto il tuo moroso ti vogliono limonare di brutto stanno partendo da Torino per venirti a limonare ti ha avviso stanno partendo da Torino per venirti a limonare ma come ha visto il tuo moroso no avvise il tuo moroso che ti stanno parlando a limonare noi ti abbiamo avvisato sta partendo da Torino lui bravo bene ma da quando tempo sei fidanzato? no e allora si parti dai sì ma fidanzato no calma calma vocale di Ciccio Bosco Nicole Nicole sono tuo padre limone ha pure il mio coetaneo non farti i problemi anzi non venire a casa che mi sto chiamando una tua amica no mi dissocio mi dissocio una Ciccio Bosco mi dissocio una Ciccio Bosco cosa c'è Ciccio Bosco? mio padre ha detto che non devo tornare a casa che si sta chiamando una mia amica ah Ciccio Bosco è il nostro padre? no non hai capito limone sto partendo da Torino questa banca online ringrazia Scagliusi 8 oh grazie per il limone non sono belli io ti sembra tutta ti ho mandato su Tinder dare foto di semmai più alte caruccia ai Tinder ai Tinder ce l'avete? ce l'avete? sì a Tinder brava è come rimorca no asar ho sbagliato non Tinder come si chiama? Tinder non ce l'ho come si chiama? Asar è la concorrenza di Tinder sì ma non ho Tinder ok ti ho seguita su Instagram no asar vediamo quanti persone chi si chiama? è Omicol è come spesso Omicol ok quindi Omicol tutto può succedere sì no a me mi hanno bannato da Omicolo ma porco due mi hanno bannato e mi hanno bannato su Omicolo tenta su Asar porco due sta scendendo mi dispiace esci chissà perché mi hanno bannato su Omicolo ma da due anni da due anni che sono bannato cacciato una lattina potente boom questi ragazzi magari ci vogliono salutare oh vocale di Scagnusi 8 salutati ragazzi biondina ci vieni nel mio privé non glielo diciamo al fidanzato non sono fidanzata da ormai otto mesi quindi da quanto tempo che non baci un ragazzo? è due anni ma va ieri non hai fatto niente? no no ma io non dico niente ma perché mi sono baciata dei ragazzi anche davanti a lui quando ero singolo davanti a lei che le sei mangiate proprio si è mangiata con gli occhi con gli occhi oh qua vogliamo i fatti questa è una community vogliosa mi ha baciato il ragazzo il limone mi ha baciato due anni ancora due anni questa banca online ringrazia Scagliusi 8 ragazzi qua non abbiamo molte chance sono due anni che non baci un ragazzo no ha baciato il mio fidanzato sì ma l'ultimo bacio con il tuo ragazzo quando è stato? tre giorni fa? no 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 tre quattro mesi tre mesi ok cioè la persona la scelta molto più tempo magari è dentro no magari è dentro no la pillola la pillola bisogna prendere la pillola no no fermati fermati pillola 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 per non rimanere in cinto per non rimanere in cinto vocale di Scagnusi 8 non abbiamo tempo da perdere io la do prendi L occasione di avere il migliore limone della tua vita muti rovinati perché? viva la pillola ragazzi usate la pillola dio porco usate la pillola che vogliamo stare tranquilli 4 mesi città bom 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 stiamo scrivendo con il nato non usa il condom si vede incinta oh ma prendila la pillola ma non ce l'ho qua c'è la casa ok da come due anni e poi la pillola risquilla però questi vi tengono qua diamo un timer tra quanto tempo volete andare via a che ore sono? sulle 9 a che ora volete andare via 2105 ok 5 minuti e vanno via chat però ti prende hai visto? ricordo la pillola e vabbè riscaricati la pillola perché oltre me ci sono tante persone interessanti che tu dici ma come è capitato ognuno vive a morire però io guardavo io ho Tinder attenzione vocale di Scagnusi 8 se non baci da due anni da quanto non scopi sempre lo stesso tempo ci crediamo? non è che quattro mesi fa l'ultima volta è successo qualcosa con chi? con il tuo ex si quindi sono quattro mesi che non chiavi eh si eh non due anni ma l'ho detto eh ok 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 sono antipatica? no 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 ci piace perché sei schietta con la pillola il condom mi piace mi piacciono le ragazze schiette anche io sono ma questa è la mia forza io sono molto diretto sono schietto e alle persone piace la realtà e non tutte le cose picche sono abituate ho sbagliato no 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 ragazzi no quanto paghi le pillole al mese? 20 euro guarda che te le passano gratis eh ma quella che prendo io no perché è modificata? no perché non è non è sono altre che danno gratis la no mi sono informata ma è una pillola blu? no ah ok non è blu ok non è quella cioè capisco eh ahia ragazzi rissa scusate c'è una piccola rissa non inquadriamo bravo la pillola infatti la prendevo perché avevo l'acne anche ma c'è la partita che è cominciata pure tra l'altro forza spagna forza spagna dio porco forza spagna forza spagna inquadra la rossa e sono qua è qui è qui è inquadrata ah inquadra la rissa no la rossa è perché no no ho devorato un palloncino la pillola la fa ingrassare ma è vero limone poi ha fatto suonare la cassa questa banca online ringrazia scagliusi otto Nicole convinci cominci a vedere la live al posto della partita togli il carri sei più bella brava ecco valorizziamo un po' questa Nicole sono finiti sono finiti vi posso mettere un secondo? così sembro un segretario sexy con te mi ha mai accorto occhiali stupendi però stai bene dai vuoi vedere? stai bene sono intellettuale no veramente stai bene sto bene ne ho tre paia veramente sì io sto a 42 anni che tipo visto visto live Nicole su andiamo con questo limone ma cos'è? un professore cinque anni qui non ha fake occhiali fake ah si è sentito ma si sente tutto no no qua c'è il microfono dell'iPhone la qualità è pazzesca occhiali sborrati andamia come sto bene cazzo un sacco di zanzare sembri un gamer ma che gamer? sembro un gamer dai un joystick Nicole Hawk sì sì certo ma sto bene sembro un gamer una meglio dell'altra eh ragazzi grazie ma io e mia sorella ci assomigliamo? sì no no per niente però il messaggio per vocale disca newsy 8 fra un po' dobbiamo andare sì lemon game a me piace la bionda la bionda è fidanzatissima mi spiace alla faccia vostra ragazzi alla faccia vostra la sorella quanti anni ha? 24 alla faccia vostra ragazzi è fidanzata alla faccia vostra sono 20 figli mi sembra no per un mese sì ragazzi ricordatevi sempre non c'erò l'iPhone che tutto quello che voi vedete a me piace la sorella quella mano chissà cosa ha toccato niente facciamo così mi dovete fare una promessa io la vedo che lei vuole rimorchiare sì lasciatela fare perché si vede che ha proprio voglia ma lei non ha lasciatela fare è una bomba o religeria siamo noi che l'ha incorreta io sono di Vettola oddio la biondina è la più bella con le manine belle anche anche lei non guarda cioè ragazzi guardate che finezza poi con questa cover Louis Vuitton cioè ragazzi ma guardate la biondina che cioè ma avete capito che fine fai vedere le mani cioè a me piacciono queste ragazze top class cioè ma guardate come cioè tu fermi una ragazza così fidanzata da un mese ma lui non lo sa cioè capite oh vocale di Scagnusi 8 si vede che ha una voglia assurda goditi sto gran limone senza pregiudizi no allora oggi non ce la facciamo comunque ci è andata bene perché comunque Massimo ci si becca stasera si io sono qua fino a mezzanotte e facciamo un girato in centro va bene io sono mi vedi con la telecamera sono io finito il tempo Nicola ha un sorriso malizioso si ma l'abbiamo un tempo inquadrato Nicola sei così sei maliziosa non è che rispondiamo a chiamare rispondiamo alla mamma no ragazzi il timer è finito 21.05 Nicola viene presa proprio dalla telecamera dai ci becchiamo stasera oh ci becchiamo stasera dai dai promesso cosa ha mangiato non so la piadina 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 sei un po' ti dimentichi sì perché ho voglia come mi chiamo Nicola ok ragazzi forse le rivediamo anche dopo le rivediamo anche dopo alto ragazzi l'età Nicola è 18 sorella mettici una buona parola sei bellissima calma avete fatto spaventare la sorella la bionda bella ma timida purtroppo io no aspetta vocale di ciccio bosco ciao Nicola sono la mamma ho appena beccato il babbo chiamare una tua amica per vendicarti chiamati Patrizio anche Rai 2 grazie grazie pom 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 patrizio potrebbe essere le tue figlie vocale di scagliusi 8 ciao ciao alla prossima oh grazie scagliusi si stanno andando via le ragazze però forse le li becchiamo dopo dopo cena dopo cena io prendo un umile o piadina o kebab una cosa umile però il kebab è pesante alla sera eh ma tanto qua a Milano Marittima se la tirano quindi non faccio sesso me lo posso permettere allora giro il scooter hai lo scooter si sono venuto qua con lo scooter ma tu di dove sei? vuoi andare a fare un giro con me lo scooter dopo? ma tu di dove sei? rimini ok bella va bene si si dopo la portiamo a fare un giro in scooter va bene va bene o le facciamo andare chat tanto la diretta la diretta la guarda la diretta ormai l'ultimo dai vocale di scagnusi 8 si ma se ci ribecchiamo dopo preparatevi psicologicamente che almeno un limone no no dopo ne parliamo oi signorina grazie per la pazienza piccolino bellina bellina tutte e tre chat le salutiamo che le facciamo andare a cena la tizia che guarda e non parla è single no ma chi? tu ah io l'ho spinazionata da cinque anni Nicola non vuole andare via ma è il lavoro di mia ho capito che questo qua è il lavoro che potrebbe fare mia sorella ma infatti ma è che è una complice ma non poi non ho follower cioè è in tre persone si porterà a zero come tutti poi arrivano le persone è normale se dimostri di essere interessante non ci schioda aspetta una proposta un decennio monetaria deve parlare delle cose che le piacciono cosa ti piace? il sesso? ma sì cioè è normale ma parla di sesso è normale aveva 10k su Instagram tecnologia? sì 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 viaggi? sì e sei come me allora oh due anime gemelle oh è come me già smettola che segno sei? anche io vocale di Scagnusi 8 dammi il numero della bionda che stasera Patrizio va a fare un giro con Nicoli io mi porto lei ragazzi non ci provate con le fidanzate ragazzi non ci provate sono il tuo fidanzato ragazzi non ci provate la pillola oh oh la pillola la pillola schiacciano a tu a breve entrerà anche il mio fidanzato quindi c'è mia mamma mio padre il suo fidanzato vediamo se avete gli occhi uguali è vero anche tu gli occhi chiari sì però a me sono verdi a te sono azzurri sì sì quindi sono un po' diverse sono il tuo fidanzato non sono fidanzata però nello schermo sono molto simili infatti sembravano azzurri la pillola ero tu quasi Nicolio è una teia grazie mi caro anche sono il tuo amico ma è vero che stasera passiamo a Ferragni sì ma dove? praticamente io la devo vedere per un appuntamento nel suo hotel dai ci stai prendendo in giro dai ci stai prendendo in giro dai ci stai prendendo in giro devi venire a vedere la Ferragni con me la portiamo a vedere la Ferragni? dai portiamole con l'andare via vocale di Scagnusi 8 dove ti piace farti venire ma a far cosa qua? sì alle 22 ragazzi le portiamo dalla Ferragni ci puoi entrare? sì ma tu vedi dalla live ma ci puoi fare entrare? ragazzi le facciamo entrare? ma ci stai prendendo in giro non puoi entrare anche prima hai detto ragazzi salgo sul palco si è entrato poi sei in campo del palco? sì sono salito sul palco il porco sul palco ok no no adesso oh comunque basta che vedi le storie su Instagram della Ferragni e ti rendi conto eh no 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 ho già guardato ah non ha storia? no 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 eh la sai negli ultimi mesi è un po' però io la stimo molto a prescindere da tutto quello che è successo per me una in gamba tutti possiamo sbagliare nella vita l'importante è che poi ti rifresci vocale di Scagnusi 8 Nicole prendi la pillola ma quindi preferisci che l'uomo finisca dentro? è normale oh comunque la chat sta facendo troppo porno in questo momento Nicole la chat sta scrivendo con il naso io direi di io andina ti amo io direi di ragazzi dai la chat è troppo vogliosa ora io capisco che c'è la partita però qua pensate alla chat cioè non guardano neanche più il colpo la nostra non guardano le partite qui c'è la finale dell'Europa Nicole è al secondo mese grazie no ragazzi assolutamente no ah si è al secondo mese Nicole? si? si è al secondo mese di bambini chat come sta andando la partita la limonata no ragazzi però c'è una limonata c'è una limonata al papite con una ragazza dell'Equador c'è la clip cosa ha detto di me siamo arrivate ieri non me lo ricordo Nicole sempre super semplice Nicole con la E ragazzi c'è una clip del limone così all'improvviso che pensano le cremonesi? la mia ex prof era di Cremona cioè è di Cremona oh l'ultimo vocale le facciamo andare oh tenga fama tenga fama ma sei di giù? perché anche i nostri genitori si originario di giù anche i nostri genitori voi? no anche i nostri genitori di Napoli ma bene non becchia al finale si è mai stata incinta a Nicole no? ma sicuro che dove mi sono Nicole è molto meglio poi con queste unghie ma ah facci vedere l'ultima volta le unghie ragazze via con le unghie vai con le manine attenzione lascia la scena Nicole guarda che scena che abbiamo qui effettivamente c'è due ore per farle sono belle ma che fai in realtà smetterebbe le mani bellissima vocale di Scagnusi 8 sputio in guai puto dopo questa possiamo andare si dopo questa ragazze io direi che la chat sta diventando un po' vogliosa ci vediamo dopo ci vediamo dopo o nel caso mi vedi in live va bene va bene o intanto siete state gentilissime ragazze grazie così va? si fa così no è un po' grezzo così non mi piace ma è bello però è un po' grezzo quindi niente bacio tra me e la mia amica giusto? non sono arrivati ragazzi il stampo è bacio calmi un bacio stampa facciamo allora un bacio stampo voi date mille bits anche a me ragazzi facciamo così a me a te mille bits se loro si baciano vai non ho capito un cazzo no non così vicino sono brutta allora mille bits come è questo? dillo tu ragazzi con mille bits il bacio fra me e te e stampo no ah non ho capito male ma guarda che bella luce tra loro due mille bits e le date a me mille bits ma a me tutti si divide la fatta te sei una futura streamer visto? lei è il suo lavoro ragazzi mille bits si baciano loro bacio stampo vocale di scagnusi 8 io mando 100 euro ma devi dare un limone a patrizio 100 euro ti do 20 euro ma cazzo no ti do 20 euro cash no 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 va bene niente è bella proposta a livello di marketing io ci stavo lavorando vocale di scagnusi 8 200 euro oh calma 200 euro posso rispondere a questo che ha detto via dei coglioni vai esci dalla live brava facciamo subito brava questo qua non è un tuo follower è un tuo hater no bravo bravo ci capi a questo hater 30 20 euro no ragazzi mille bits c'è il bacio a stampo fra di loro a mille bits a chi? vocale di scagnusi 8 ma come ti do 300 euro calma ti arriva una proposta folle ci danno 300 euro no no non ci facciamo niente ragazzi neanche per 300 no non esageriamo ora non ha detto no hanno detto no no allora questo donatore che è un quello che sta mandando ora le vocali 500 euro è un posso provare a tenerlo? vai tenino tienilo in mano così ok pesa un po' eh aspetta voglio fare una foto vai ragazzi io le mani libere tanto no aspetta facciamo con mio vocale di fenice sottolineatura colossale 20 disturbo tenete questi calmi calmi vocale di scagnusi 8 100 euro a te 100 a patrizio la bionda secondo me è una porca assurda la bionda è fidanzatissima pesa pesa troppo pesa troppo sto coso per la prima volta ho fatto una faccina sexy e ho visto che quando vuoi sei tanta roba avete visto che faccina sexy ha fatto ora la bionda sempre un assaggio per voi vocale di scagnusi 8 la bionda sputa o ingoia schifo schifo è uno scuidi ok la bionda ispira sesso potente ispira sesso potente vocale di scagnusi 8 posizione preferita è l'ultima sennò qua non mi lasciano più posizione preferita ma che cazzo ne so tutte 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 ma non le tutte io mi vergogno rispondo proprio quella tutte anche per lei tutte anche per lei oh ragazze grazie io va sennò qua non ci lasciano più oi ci vediamo dopo in live scrivi Nicole tanto sei te Nicole ti riconosciamo ti riconosciamo dal bacino perché l'abbonamento regalato è il simbolo del primo mese capito vocale di fenice sottolineatura colossale Nicole quando il ragazzo viene dentro quanti scorregini vaginali di sborra fai? 50 ciao vocale di scagnusi 8 vendo libro esseri umani condizioni pari al nuovo ciao